Musica Bene cari amici, oggi siamo a Terni nel negozio Pesca l'Occasione salutiamo Milko che è responsabile del punto vendita Alessio Casilli, pluricampione italiano di Fidel Fishing ha vinto veramente tutto e siamo qui per testare in anteprima le nuove concept Fidel TBR giusto Alessio? Si, appena arrivati, sono arrivati in azienda da una settimana e finalmente possiamo piegare, le possiamo piegare, per piegare abbiamo scelto un lago naturale un lago naturale che abbiamo ripreso noi in questo periodo, è fermo da oltre 30 anni era quindi carpe, non facile, pesci veri, pesci veri, mai alla male quindi ecco anche combattivi immagini, molto combattivi e anche di buona taglia Per i pescatori, per gli amici pescatori che vogliono pescare in questo lago quale è il regolamento? Allora, un regolamento preciso ancora non c'è, diciamo noi questo lago lo affittiamo quindi gratuitamente per chi vuole sul previo prenotazione che possono effettuare direttamente presso il punto vendita sia per i nostri clienti sia per chi è che acquista il nostro sito Sostanzialmente è un pescatore che viene qui a comprare l'attrezzatura, può andarla a provare può andare a provare, vediamo l'ichiamo, mettiamo a disposizione il lago per andare a provare l'attrezzatura Senza, gratuitamente? gratuitamente, esatto Ottima idea, spettacolare, pescare in un lago poi dall'altro naturale da tanti tempi chiusi è sempre un incentivo e un'emozione in più noi facciamo i complimenti a Mirko per il punto vendita, veramente fornitissimo che troverete a Terni ma anche online, giusto? Online sì, il sito è pesca l'occasione, www.pescaloccasione.it le stesse offerte che si trovano online le possono ritrovare in negozio per chi vuole venire direttamente ad acquistare qui voi trattate tutte le tecniche, giusto? noi abbiamo, sì, dalla pesca in mare fino alla terra, total lago, spinning, facciamo un po' di tutto trattiamo un po' tutti gli articoli bene, noi adesso affronteremo questo lago speriamo di piegare le nuove TBR e ve li mandiamo al video della pescata ecco, Alessio in cattura con le nuove TBR a Peret Feeder in questo splendido contesto ambientale, veramente bellissimo questo lago adesso vediamo di farvi vedere la piega di questa canna guarda che bella che spettacolo la canna, guardate come piega sotto le ripartenze di queste che dovrebbe essere una bella calpa guarda che bella bella, veramente bella Peret Feeder in questi ambienti naturali dove non c'è il pesce non abituato alla pressione pescatoria sicuramente la tecnica più redditizia bene, Alessio hai battezzato il tuo primo pesce con la TBR giusto? si eh, le infezioni? un attimo che liberiamo prima il pesce perfetto, ecco che la rilasciamo subito è andata intanto sono pesci piccolini ma attirano perché non stanno in salute, sono pesci bellissimi e la canna anche qua sotto quando era chiusa lavora benissimo bella canna quindi possiamo promuovere anche questa nuova sede giusto? si, poi questa è la 11 piedi la più morbida però non c'è problemi anche a tirare ora vediamo se riusciamo a prendere anche qualche pesce più grande la testiamo ancora di più, la forziamo bene 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 cari amici, vi abbiamo promesso una sorpresa, la sorpresa è che terminiamo questa splendida giornata qui al lago pesca l'opera bene cari amici, vi abbiamo promesso una sorpresa, la sorpresa è che terminiamo questa splendida giornata qui al lago pesca lopera è l'occasione con gli amici del negozio pesca l'occasione che vi consigliamo di visitare perché oltre a trovare tantissima spezzatura avrete anche la possibilità di pescare in questo splendido specchio d'acqua noi vi salutiamo perché ci aspettano queste prelibatezze e vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Tugertini Fide ciao